Come creare una lista di invio Dal pannello Liste è possibile creare una lista per raggruppare i clienti. Clicca a sinistra su Liste, clicca in alto a destra su Più, nomina la lista, ad esempio Iscritti in Newsletter, e clicca a destra sull'icona Più per aggiungere i clienti alla lista. Spunta clienti da aggiungere e clicca su Aggiungi in una lista. Per modificare una lista, clicca sui tre puntini in corrispondenza della lista da modificare e clicca su Modifica lista.